Gabri, dove siamo? Siamo in una nuova città! Che bello questo posto, cioè più o meno, questo posto non è che è così tanto bello No, infatti, però, guarda che qua noi siamo molto poveri purtroppo No, come? Per farti capire io ho solamente 50, ho pochissimi soldi comunque, c'è veramente... Io non ho niente Scusa un attimo, sto vedendo una persona lì, ma cosa... Cos'è? Ma hai sentito? Ma infatti cosa sta facendo? Ma chi è? Ma aiuto, aiuto, ma tu senti che sta scorreggiando? Sì, lo sento, ma poi è tipo strano Allora, secondo me ha qualche problema, vabbè, comunque è andato Ma sono andato Ciao! Ma hai sentito? Ma ha parlato Ha parlato, sì, ha chiaramente parlato, vabbè, guarda, non mi interessa in questa... Vabbè, qua ci sono persone strane Sì, perché il quartiere è un po' più poveraccio, un po' più schifoso, guardate qua Cioè, guarda, noi... I tronchi La sera, esatto, non ci possiamo mettere sui tronchi e cagare qua sopra No, dai, scherzo Ma no, dai! Però, insomma, possiamo fare un po' di cose E poi dopo, quando abbiamo fame, perché noi qua abbiamo una tenda molto bella Noi qua possiamo andare a mangiare, fare... La cucina Sì, a bere l'acqua dalla cucina Ciao, amici! Nonno! Nonno! Anche tu ci sei? Come sei arrivato? Sì, ci sono anch'io Non mi ha la più palida idea Adesso vi devo chiedere una cosa, però Come caspita avete fatto ad arrivare dalla scorsa isola, tipo, fino a qua? Cioè, nel senso, ci siamo incontrati tutti qua, certo che la vita è strana, eh? Cioè, nel senso, per la puzzarda Perché voi eravate, tipo, non lo so, andati, naufragati, tipo, una roba di questo tipo E anch'io, anch'io Eh, porca puzzarda, veramente stranissimo Mamma mia, che bello per iniziare questa nuova avventura Però, forza, adesso io devo andare a lavorare... No, come? All'Ikea, sì, perché ci servono soldi Io non ho niente, vi ripeto, non ho niente Ho zero soldi, zero niente Ti hai ragione Cioè, in realtà avrei, tipo, le gemme Ma c'è la schifo, viviamo in queste tende schifose Marce, strumenti E comunque avrei queste gemme molto belle Stai... Ma, no, io... Eh, cosa è successo? Ma, si era bloccato tutto per un attimo Però, devo picchiare! Ti devo picchiare! Ah, l'occhio! No, l'occhio, grazie Ma come ti è caduto l'occhio, ma... Sì, mi era caduto l'occhio Ma hai fatto male Ma ti sembra normale che ti cade l'occhio? Cioè, ok, io non voglio saperne niente E comunque stavo dicendo che ho queste gemme qua Ho queste gemme, ok? Sono molto belle Quali sono? E le ho rubate dall'isola, quelle là del dottore Belle! Sì, 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 le ho rubate perché ho detto Così diventeremo ricchi Chi lo sa, magari riusciremo a scambiare in qualche modo Sì, sì, non lo so, almeno credo, lo spero perlomeno Beh, chissà, magari riusciremo Adesso comunque vado alla craft che è a lavorare Ciao, ciao! Va bene, ciao! Ciao, ciao! Porca puzzarda! Sono molto emozionato per questo Per questo nuovo inizio Insomma, chissà che cosa, avventure Quali avventure magiche ci saranno qua In questa nuova città veramente enorme Sono molto contento E poi la craft che ha Sarà un lavoro che mi permetterà anche di Magari pagarmi gli studi I prossimi studi Insomma, magari chissà Potrò studiare la crafticina Che sarebbe, insomma, la medicina però Un po' più craftosa, no? Oppure potrei studiare la craftiologia Oppure potrei studiare, non lo so, la craft liberty Eh, della... Oh! Ma... Ah! Ciao, capo! Salve, capo! Chi sei? Come? Scusi, non ho ben capito Chi sei? Chi sono? Sono Duny Sì E quello che lavora qua a nuovo Sono Benvenuto Grazie Allora... Vuoi comprare qualcosa? No, comprare no Devo lavorare, devo lavorare, signore Lavorare? Sì Non accettiamo nuovi dipendenti adesso Ce l'abbiamo già Guarda, questo qua è quello più bravo No, questo è un cliente Bene No, non è un cliente Lui lavora Vero, vero che lavori, vero Vero lavori, sì Ha detto di sì Va bene, ok Comunque mi avete assunto voi Vi ricordate? Cioè, lei Sì, sì, sì Forse, sì No Sono Duny E quindi adesso vado a lavorare Va bene? Ok? Ma Ciao, ciao Ma aspetta Cosa c'è? Mi dica, mi dica Ma io non ti ho assunto Ma porca miseria Certo che mi ha assunto Ma quando? Mannaggia, lei mi ha assunto Ho detto che mi ha assunto Ti ho assunto Ti ho assunto Ti ho assunto Oh, cribbio Cioè, veramente Aiuto Ma mezz'ora per farle capire Che mi ha assunto Cioè, nel senso Dovrebbe essere lei Non ti ho assunto Ancora? Sì, invece ti ho assunto Chiedo scusa Bene Sarà meglio così Ma io veramente non so Cioè, io boh Veramente Cioè, questo qua comunque Comunque signore Caghetino Farmino Ma che nome ha? Scusi Allora, lei è un cliente Come posso esserle utile? Vuole un panino? È un paninozzo buono? Eh, lo vuole questo paninozzo Un altro panino? Non lo vuole più il panino? Ma mi sembra strano comunque Che lei non voglia il panino Vabbè, me li prendo io nel caso Me li prendo io Ma me li ha rubati per caso Senta lei Non ho tempo da perdere Io me ne vado qua dentro Mi nascondo dal capo Che adesso Non mi dovrà mai vedere No, dai scherzo Sennò poi dopo con la Urla Sclera Poi dopo urlo anch'io Perché non vado d'accordo molto Con i capi fuori di testa Allora Come la posso aiutare? Alalalalalalalalalala Mi scusi In che lingua sta parlando? Non sto capendo bene Lalalalalalalala Oh porca misura Ho visto qualcuno Non mi dire che è quello che penso io Ho visto qualcuno Allora a me sembra di aver visto Fermo un attimo A me sembra di aver visto una cosa molto inquietante Ciao Ciao Cosa fai Vieni qua con me Vieni ad esplorare Aspetti Ti devo spiegare Qua è successa una cosa veramente terribile nonno Praticamente Adesso ti racconto io la mia cosa Poi dopo mi racconterai Allora praticamente c'è un dottore Allora questo dottore praticamente mi sta seguendo dall'isola È presente quell'isola dove siamo stati non fracassati Praticamente c'era il dottore pazzo Quel dottore pazzo che insomma Mi ricordo quel coso Adesso mi pare che sia proprio lui che mi sta seguendo Io l'ho di nuovo visto all'in fondo Ma sei impazzito Io non ho visto nessuno Oddio Allora Allora Dovevamo cercare di mantenere la calma Perché qua Non è possibile Cioè nel senso Questo qua praticamente Secondo me si vuole vendicare Perché gli ho rubato Le gemme preziose Secondo me è così Oppure perché magari ci vuole uccidere Ma perché gliele rubate Eh senti Per avere i soldi Anche perché non abbiamo più nessun soldo Vabbè senti Dovemmo uscircene Sei venuto qua a lavorare Sì Vabbè Siamo venuti qua Comunque anche a me è successo qualcosa di assurdo Eh comunque fra poco finisce il mio turno Di già Cos'è che è successo Dimmi un po' Cos'è che è successo Stavo esplorando Ho visto il civitero C'era una brutta signora Ma proprio brutta Ma cosa stai dicendo Cosa diceva quella brutta signora Sì ma poi faceva suoni strani Tipo tutto Tutti sgangherati Tutto così Sì ma tu mi stai violando un attimo Nelle orecchie caro Scusa 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 Eh eh Cerca Non parlare basso Non parlare basso Per carità Parla alto Quindi Dunque Hai di nuovo parlato basso No no Mannaggia a te Mannaggia a te Che ti faccia cadere tutti gli occhi Allora Dimmi un po' Cosa stava facendo questa signora Che mi sembra strano Ma non lo so Toccava le tombe Non so Magari le profanava Magari rubava le cose Che c'avevano i morti dentro Oh no Oddio ti immagini Che schifo Ma poi Ma poi non sembrava umana Tutta bianca Cioè C'era quasi paura Ma davvero Allora Dovremmo andare a vedere Ma Fra poco E' sera Cioè in realtà Dovrebbe essere quasi buio ormai E quindi Dovemmo cercare di capire bene Come fare Perché I fantasmi Io devi sapere una cosa Nonno I fantasmi Arrivano sempre Quando meno te l'aspetti Insomma Cioè nel senso Non si sa perché Ma poi Sì hai ragione Hai ragione Eh cos'è che possiamo fare adesso Non lo so Forse sarà meglio Andare a questo cimitero Tu mi stai davvero dicendo Esatto Sì sì Fa paura Devi vederla anche te Dai corri vai Ma hai urlato di nuovo Porca puzzarda Cioè adesso devo uccidere Per forza No per favore Gli occhi Ma Allora Ti devo far cadere un occhio No gli occhi Oddio no Di nuovo Prenditi gli occhi Aiuto Non vedo nulla A sinistra Eccoli qua Perfetto Eccoli oh ecco Bene ok L'importante è che tu adesso ci veda Allora Che paura Hai detto al cimitero Ma poi cosa ci stavi facendo al cimitero Scusami Ma stavo esplorando Ah esplorando E' andata a scippare qualche vecchietta Cioè nel senso Cosa? No era andata ad esplorare No era andata ad esplorare semplicemente Ma tu non sei normale Cioè vabbè andiamo al cimitero Devo capire bene che caspita stavi dicendo Perché sinceramente voglio scoprire anche io chi è questa signora strana Che poi ho sentito che in questa città Non so perché ma è pieno di Banshee Cioè tipo le Banshee Sì 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 Sono tipo creature un po' strane no? Forza vieni Dove stavi andando? Cioè ti devo picchiare di nuovo Guarda che hai gli occhi No è la vecchiaia La vecchiaia Camino un po' più lento Oh pio ma cosa è quel coso? Cosa? Ti entra mamma mia Eh sì 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 Quella specie di bastone enorme Eh quello per l'occhi è uno sport molto bello E quindi te lo devo dare in testa Oltre che ti faccia entrare qualcosa nel sederino E il bastone ovviamente Allora Andiamo da questo Io mi ricordo perfettamente questa città Me la ricordo anche perché ormai ci ho camminato Ormai sì Ci vivo qua da un po' E voglio no Io mi sto svegliato in quelle tende schifose Puzzolenti a caso poi Ma davvero? Sei un po' strano tu Cioè che schifo Già nel senso Forse ti ha messo qualcuno Scusa un attimo Che è che ti ha messo? No no stai di nuovo indietro Cioè Eh sì Ehi svegliati Ah ah gli occhi Dove sono i miei occhi? Ah aiuto No vedo la monica Gli occhi Allora stai sveglio però Se non vuoi che ti faccia cadere gli occhi Poi quanti occhi hai? Scusami C'era un po' Mannaggia Poi dobbiamo arrivare a questo cimitero Per quanti Scusami Che cosa vuol dire un po' poi? Quanti Cioè nel senso di solito io ho due occhi Poi dopo non so Io ho il terzo occhio Non so se anche te ce l'hai Eh il terzo occhio Io vedi il futuro Vedi il futuro dici? Sì ma non posso dirti nulla Va bene ok No non è vero Non vedo nulla Ma hai parlato Oh santa di quella Marianna Rondara Allora la Marianna Rondara No è una storia da ok no Eh sì Guarda che ti faccio saldare pure il ventesimo occhio Che c'hai Il dio della morte Eh il dio della morte Forza vieni vieni andiamo Quindi tu mi stai dicendo che c'è qualcuno eh Sì sì Eh dobbiamo stare attenti perché Eccoli le vedo le vedo Cos'è che stai vedendo? Vedo delle tombe delle labidi quelle lì Ero proprio passato lì vicino Sono a bo... Ah scusa ho sentito uno strano suono nelle orecchie Scusami tanto Ma hai fatto prendere paura Non ti preoccupare Forza avviciniamoci da questa parte Vieni quindi qua questo è il cimitero giusto? Sì sì Ok perfetto Quindi praticamente qua hai detto che ci dovrebbero essere un po' che cose Oddio Oddio No 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 ma cosa fai? Ma non c'è più ma Ah di picchio No no Aiuto Oh no Oh aiuto Gli occhi Gli occhi Gli occhi No Eh no anche quattro occhi ti è caduto Porca puzzarda No 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 Il dono Allora eh anche il nono Allora scusa un attimo Cioè hai visto hai proprio ragione C'era proprio una serie Era fantasma Era una banshee Sì mi sembrava proprio una banshee Era orribile Quelle la urlano Senza gambe Sì era senza gambe Ma infatti si vede che era un fantasma proprio per questo fatto qua Porca puzzarda No infatti è orribile No 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 qua dobbiamo andare a più fondo Dobbiamo cercare di capire cosa Che misteri ci sono in questa città E soprattutto Dobbiamo cercare di capire cosa vuole quel dottore pazzo da noi Vabbè È O mio Ecco